Dove siamo? Ah, c'è una jeep! Una jeep? Eh! Uella! Oh mio, che ammazzano sul fiume! Stiamo percorrendo il sentiero per arrivare al pieno tubo, abbiamo camminato circa un'oretta lungo, guadando il fiume praticamente, lungo il corso del fiume e adesso quanto manca? Mancano! 15 minuti per i giovani, 18 middle age, 20 senior. Noi 15, vedremo. Distorpi? Distorpi 22! Qua ci è arrivati al quadro! Siamo dentro al cratere principale del pieno tubo, quello che era esploso nella eruzione del 1991. È grandissimo! Siete contenti ragazzi? Wow! Wow! Lo vedete? È lì, è lì! È lì, è lì! Wow! Che meraviglia! Siamo nel cratere del monte, è lì, è lì, è lì, è lì! Alla fine la salita è durata più dei 20 minuti, anzi 15 che avevamo previsto e la discesa durerà ancora di più perché tuona, piove, però è uno spettacolo, proprio bello, ne basta la pena. Yuhuu, un altro vulcano! Grazie a tutti!